Trattamento 5 stelle A parte che Belle esperienze No no dai dai Spogati Non siete stati soddisfatti di questa bellissima giornata Abbiamo preso l'acqua Abbiamo visto che abbiamo tirato 4 calci L'acqua era gratis Lo zio è scopasso dopo 10 minuti Lo zio ne ha presi due Ha fatto il disturbatore tipo Paolini a Sky Sky TG24 La vera Non sono autorizzato Chi è che arriva? No no Teresa non c'è No non c'è Sì ma arrivano ti schiacciano E Milton esce da qua Hai visto strisciano Fanno i servizi Sì Sì Facciamo una foto al prezzo No c'è una foto al prezzo Siamo fuori l'armaletto Ma magari non c'è la foto al prezzo Qualche fontina ce l'abbiamo Qualche assi Sì che poi siete tutti attrezzati Sembrate minchia i paparazzi 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 Facciamo il calendario al pinetino Sì sì al pinetino La interelle Ci sarà qualche Un maledetto Un'animapia che si ferma Se Gianni si ferma L'importante è che il telefono Rimanga intanto Dall'uscita secondaria Ti ho ragione Non si ho poveri ragione Dite per caso Ti stai fischiando le orecchie Gianni No è di là è di là Tipo in guerra L'assalto Oh pagai Ecco si chiude la sbarra Basta adesso è scontutile Guarda che arriva qualcuno Un alba Ma di solito dovrebbe avere tutto il volvo Mi sa No sarà Non lo so Non so chi sia Ma chi cazzo Quanta gente c'è Questa è la vanscoperta Ma si fiega Sembrano robose Senti cosa dice Che chi Sì va vero Guarda Ha inquadrato la vera Vera No ma ha tirato l'ombrello Perché adesso sono scoglionati Dopo ieri Quindi non si fermano Loro sono scoglionati Capì loro Andatevi a guardare il conto in banca che ci avete Poi vediamo chi è più scoglionato Scoglionati Sai che cos'è? Ser pagati per giocare Meraviglie Figa veramente No No invece paghiamo per andargli a vedere Giocare Giocare è un parolone perché dopo ieri E in più Non mi ricordo che cazzo stavo dicendo Ho perso il piede discorso Guarda Alvarez Inquadra Con furgone Figa che c'è Noi ci facciamo attraversare Animiamo un po' Perché se no sta festa Sì sì Festa? Festa Che festa Ma poi tra l'altro Ma poi tra l'altro anche Giuffri Vedo che se ne è già andato a gambe levate Mi sa Sì mi sa che il coordinatore Mi ha dato il coordinatore qui sto dicendo Chi cazzo la conosce? Immu? Immu? Immu No è l'immu Immu Immu no L'immu lascia la sardo Quante bocce avrà Ecco Volvo è uno dei De qualche roboso De qualche roboso Votate il me Votate il me Votate Votate Samuele Chi è? Bersani Allora Lasciate libera la carrizzata Andiamo qui in là Ma va che sto nello Ma va non c'entra niente Ma cattopalle Allora è questo Massi film Chi è diverso Tu qua è quello che porta i coni Ciao I cinesini Va qua Va qua Va qua Va qua Va qua Grazie.